Collegamento conclusivo con l'ATP della Val Gardena per l'ultima giornata delle qualificazioni coincidente anche con la prima giornata del tabellone principale di doppio e di singolo. Nelle partite mattutine negli ultimi quattro incontri del tabellone di qualificazione si sono qualificati l'italiano Petrone, il ceco Ernic, il croato Sancic e il tedesco Langer. Nel pomeriggio finite le qualificazioni c'è stato il Kids Day dove Simone Bolelli e Andrea Seppi hanno intrattenuto i ragazzini che sono arrivati al circolo per palleggiare con loro e terminato il quale verso le 18 sono cominciate le prime partite dei tabelloni principali. Ci sono stati due incontri per il tabellone del singolare e tre incontri che sono finiti adesso in serata del tabellone del doppio. Per il singolare il tedesco Buckinger ha battuto il Berga Kopejan per 6-1-6-3 nettamente e nel successivo incontro il russo Karatzev ha battuto l'astriaco Fischer per 6-3-6-2. Finiti questi incontri sono cominciati quelli dei doppi dove gli italiani Arnaboldi e Viola hanno battuto abbastanza nettamente gli altruattesini Berger Nicolussi per 6-4-6-2. Successivamente è uscito anche l'ultimo doppio altruattesino Kostner-Prinot per mano di Mektic e Sancic, i due croati con il punteggio di doppio 6-2. E come ultimo incontro Borgo-Perez hanno battuto Basic Frigerio per 7-6-6-3. Domani mattina ripartiranno gli incontri sia per il tabellone principale del doppio che per quello del singolo. Per oggi è tutto.